Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In apertura parliamo di Covid, tornano a farsi sentire i casi di contagio nelle scuole di Torre del Greco. Oggi il presidente De Luca potrebbe decidere per la chiusura e un ritorno alla DAD. Ancora tanta la paura per il rientro degli studenti a scuola abbiamo ascoltato i pareri dei torrisi. Continuano a salire i casi Covid in campagna. Ieri a Torre del Greco registrate 49 nuove positività, certificate anche 24 guarigioni. Infine allo sport con la Turris che domenica affronterà il Bisceghi a Liguori. I corallini cercano i tre punti dopo le ultime sconfitte. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Continuano a far parlare i casi di positività al Covid-19 nelle scuole di Torre del Greco. L'unità di crisi della regione campagna sta monitorando l'impennata della curva nelle scuole superiori, mentre già da qualche giorno è tornato in presenza il 50% degli studenti. Oggi punto della situazione da parte del presidente Vincenzo De Luca, che potrebbe decidere per un nuovo stoppo della didattica in presenza dal 15 febbraio. Un contagio si è registrato ieri all'Istituto Comprensivo de Nicola Sasso. Si tratta di una luna della seconda elementare, messa inoltre in quarantena la classe del plesso di Via Calastro insieme alle maestre. Primo caso di positività anche presso il liceo classico De Bottis. Come confermato dalla dirigente scolastica Letizia Spagnolo, si tratta di una ragazza di quinta che avrebbe contratto il virus all'infuori dell'ambiente scolastico. In conseguenza, alla comunicazione, la classe è stata messa in quarantena, mentre i professori dovranno effettuare il tampone. Proprio nella mattinata di ieri, i rappresentanti degli studenti hanno incontrato in modalità telematica il sindaco Giovanni Palomba per chiedere maggiori garanzie per la sicurezza fra i banchi scolastici e soprattutto per consentire una didattica mista fra in presenza e a distanza più funzionale ed efficace. Dalla riunione è emersa la necessità di una comunicazione ai vertici regionali per palesare i disagi vissuti dagli studenti. Disposta già nei giorni scorsi anche la chiusura dell'Istituto Giovanni Battista Angioletti e di una classe del Plesso Mazza in via Vittorio Veneto. Il sindaco Palomba, infatti, ha scelto la via della prevenzione, alla luce degli ultimi casi di contagio. Situazione scuole, aumentano i contagi negli istituti di Torre del Greco, lei ha paura? Sono molto preoccupato in quanto i contagi stanno salendo e non so se sia stato un bene riaprirle o meno. Oddio, la cultura, la formazione è importante, i giovani sono il nostro futuro, però a queste condizioni sarei più per la prudenza chiuderle ancora per un po' e poi dopo, non appena si assesta un po' la situazione, diminuiscono i contagi, c'è questo piano di vaccinazione e poi dopo riprendere il piano regime. Lei ha fiducia in questo vaccino? Sì, anzi, non le nego, ero il primo a farmelo fare, adesso tempi permettendo ovviamente perché c'è un piano in cui verranno prima vaccinati, io verrò tanto, sì sì, comunque sono fiducioso anche perché ce la siamo visti brutta, ho conosciuto parecchie persone positive, sono state veramente male, quindi sono il primo a farmelo fare. Non penso che sia stato il caso di aprire ancora le scuole, dal mio punto di vista può portarsi che è anche il sbaglio, però penso che hanno fatto una cosa sbagliata. Presto si spera arriverà anche per lei il vaccino, lei è fiducioso, si vaccinerà? Io sì, se arriverà e me lo faranno, io lo farò senz'altro, anche per rispettare altre persone, perché se è efficace realmente è un peccato non farlo, penso che la cosa più opportuna sia quella di fare tutti quando non si dovrebbero tenere indietro. Non bisogna avere paura, ma bisogna risolvere questi problemi, perché la pandemia si sta spandendo pure fra i giovani e praticamente non risolve nessun problema se non si mettono ai ragazzi in sicurezza. I ragazzi bisogna seguirli e bisogna tenerli lontano l'uno dall'altro nelle condizioni dovute per non avere il contagio, perché molti non mettono la mascherina oppure la tolgono strada facendo. Lei si vaccinerà a fiducia in questo vaccino? Quando arriverà il mio turno lo farò, però tutte le situazioni che si stanno verificando nell'approvvigionamento del vaccino sono un po' deleterie e poco controllate. Situazione scuole, aumentano i contagi negli istituti torresi, lei ha paura? Sì, certamente sì, perché mio figlio fa il quarto liceo scientifico, dopo un anno e mezzo di pandemia a casa è ritornato a scuola per un giorno e è tornato a casa, perché purtroppo le scuole sono a rischio, poi non lo sappiamo come va a finire, ma giustamente abbiamo paura. C'è troppo assembramento, diciamo, a tutto ciò ci fa paura. Crede che sia più una responsabilità degli istituti, nell'organizzazione o nella negligenza dei ragazzi stessi? No, non credo, i ragazzi si stanno comportando molto bene, a parte ci hanno paura pure loro. Io non credo nel sistema come è stata fatta la situazione, perché per il resto va bene, ma non ha senso mandare adesso i ragazzi a scuola prima di non essere vaccinati, questo per me è il discorso. Ho delle nipoti che frequentano anche se istituti superiori, proprio poco fa mi è arrivata notizia di altri casi positivi. Sì, la paura ci sta. Tutto è anche purtroppo un po' di responsabilità da dare agli alunni stessi, soprattutto quando sono già un po' più grandicelli, ma il popolo in genere è un po' indisciplinato, perché è la correlazione intorno, sono i fattori ambientali, non è la scuola in sé che fa paura. E riguardo il vaccino, una delle armi, se non la più importante arma nella lotta al Covid-19, lei è fiduciosa nonostante i ritardi registrati sia dall'Unione Europea che dal nostro paese? Sì, sono abbastanza fiduciosa. Io sono una delle fortunate che già ha fatto il vaccino, perché lavoro in ambiente sanitario, quindi diciamo che ho notato una certa celerità, molta professionalità, quindi un impegno abbastanza forte nel portare avanti la campagna vaccinale. Lo dico da interno perché l'ho visto veramente, seriamente mettere in pratica. Crescono i casi di contagio da Covid-19 in Campania. Registrate nella giornata di ieri ben 1.544 nuove positività. A Torre del Greco sono 49 nuovi positivi, dei quali 2 in regime ospedaliero, 1 ripositivizzato e restanti in isolamento. Certificate anche 24 guarigioni. Sale quindi a 512 il numero degli attualmente positivi in città. Resta stabile il dato dei decessi, che è di 92. Intanto ieri tavolo tecnico ai vertici tra l'AS Napoli 3 Sud e i sindaci dei comuni vesuviani. A breve, campagna vaccinale che dovrebbe aver luogo presso la Santissima Trinità di Torre del Greco. Sono 42 nuovi casi di contagio da Covid-19 a Torre Annunziata. Al contempo si registrano anche 16 guarigioni. Sale quindi a 745 il numero dei cittadini attualmente positivi, 734 posti in isolamento domiciliare e 11 ricoverati. Nel comune di Castellammare, invece, sono 350 gli attualmente positivi. Ogni giorno si registrano diversi casi di contagio, fra cui anche giovanissimi. Molte le critiche da parte di alcuni stabiesi, che lamentano i numerosi assembramenti che si creano nei luoghi della Movida. Gara interna per la Turris, che affronterà allo stadio americo Liguori di Torre del Greco il Bisceglie. Un incontro sulla carta alla portata dei ragazzi di Franco Fabiano, reduci da tre sconfitte consecutive contro Avellino, Francavilla e Viterbese. Filotto di sconfitte che ha visto sfilare i corallini dalla zona playoff. A 27 punti inizia adesso ad incompere il pericolo playoff. Una situazione da evitare per fare in modo che il già difficile girone di ritorno si complichi ulteriormente e per scacciare ogni vento di crisi. Anche il Bisceglie è a caccia di punti chiave. La compagine nera-azzurra staziona pienamente nella zona retrocessione, al 17esimo posto con 16 punti. Un digiuno di vittoria che manca per entrambe dallo scorso 23 dicembre, quando la Turris vinse per 2-0 ai danni della Cavese, mentre il Bisceglie riuscì a sconfiggere il termo per 1-0. I torresi cercheranno di bissare la vittoria ottenuta un girone fa. Allora la Turris si impose con un risicato quanto prezioso 1-0, grazie alla rete al 41esimo di Giannone. A dirigere il match sarà Tommaso Zamagni della sezione di Cesena, coadivato dagli assistenti Vitale e Ricciardi. Servirà in ogni caso una prestazione importante che possa rilanciare il cammino in campionato della Turris. L'obiettivo non può che essere dunque il raggiungimento dei tre punti in palio, per risalire la china in classifica e per risollevare il morale, inevitabilmente basso alla luce degli ultimi risultati. Grazie per la cortese attenzione, per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione-tvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484. Grazie e buon weekend! Grazie a tutti!